Rocco Davide Revisore Vincenzo Revisore Buongiorno, buonasera. Sono qui come artista e quindi devo far capire come il mio ruolo possa entrare in questa dimensione di responsabilità sociale. Dietro di me c'è un simbolo. Allora, il mio discorso sarà su un piano simbolico. Devo dare senso a questo simbolo. Questo simbolo è quello del terzo paradiso. Lo vedrete risolto in molte forme, in molti materiali diversi, in molte situazioni diverse. Vi descriverò che cos'è questo simbolo, però prima voglio dirvi che la condizione simbolica di fondo del mio lavoro nasce dal 1960 quando ho cominciato a utilizzare la materia artistica in maniera nuova facendola diventare speculare, specchio. La superficie del quadro è diventata rappresentativa non soltanto di quello che io potevo descrivere su quella superficie ma rappresentativa del mondo intero in quanto è chiaro che lo specchio è l'elemento essenziale della raffigurazione. Tutto si riflette nel quadro specchiante. Dunque, io in senso rappresentativo mi sono trovato ad avere nel quadro specchiante il simbolo del mondo, il simbolo della società, il simbolo della gente che entra nel quadro. Quindi mi sono sentito responsabilizzato perché si è aperto davanti a me uno spazio inclusivo, enorme. Allora, cosa faccio io con tutta questa gente che è entrata nel mio quadro? Che è entrata nel mio quadro? Cosa faccio con loro? Allora, mi sono reso conto che serviva l'individuo. L'individuo che guarda nello specchio, si vede, ma nello stesso tempo vede tutti quegli altri che passano intorno a lui. Allora, quando oggi si parla di... Beh, allora internet non c'era. Però forse era già l'idea di internet. Perché c'era il rapporto tra l'individuo e tutti gli altri individui. Questo contatto, questo muoversi tra l'uno e i molti, tra l'uno e tutti. Questo è stato già forse un passo simbolico forte che annunciava poi quello che avrebbe dovuto succedere in senso tecnologico. Però io ho voluto fare qualche cosa di mio, di pratico. E quindi ho pensato che questa responsabilità che mi dava lo spazio rappresentativo dello specchio era enorme. E girandomi, girandomi, lasciando lo specchio alle spalle, mi sono rivolto alla società e ho cominciato a entrare nella società. Muovendomi dallo specchio verso la società, voi provate davanti allo specchio, andate via dallo specchio, vi vedete entrare nello specchio. Quindi io sono entrato nello specchio allontanandomi da quel luogo ormai significativo per me. Mi sono inoltrato nella società per fare che cosa? Per assumere responsabilità. L'arte nel ventesimo secolo ha creato una dimensione di autonomia dell'arte stessa e una libertà straordinaria dell'artista. L'artista è libero di fare quello che vuole, ma non c'è libertà senza responsabilità. Cosa serve la libertà? Io sono libero di andare in giro, prendere schiaffi, tizio e caio? E questa è la libertà? No, la libertà ha bisogno di un contrappeso e questo contrappeso è la responsabilità. In che maniera io posso unire responsabilità e libertà? Questo è stato un po' il compito che mi sono posto. Sono arrivato alla creazione della città dell'arte, dove ho messo l'arte in condizione di utilizzare tutti gli strumenti e i linguaggi artistici, dalla musica alla letteratura, cinema, teatro. Ho messo tutti questi linguaggi insieme e poi mi sono accorto che non bastava. Allora ho cominciato a introdurre i vari settori della vita sociale. La politica, l'economia, la comunicazione, l'istruzione, la spiritualità. Tutti questi elementi che compongono la vita sociale. E li ho trattati in qualche maniera, diciamo, non come elementi tecnici, duri, ma li ho trattati come elementi morbidi, di possibile ammorbidimento attraverso l'arte. L'arte mette anche immaginazione, mette fantasia, mette visioni dinamiche intorno e dentro anche a questi processi molto spesso aridi, che sono quelli della politica, che sono quelli della tecnologia anche, ma soprattutto dell'economia. Allora ho creato a Città dell'arte gli uffizi, li ho chiamati uffizi per rifarmi al rinascimento. L'ufficio arte, politica, comunicazione, economia. Da tutto questo, poi, è nata un'attività che ha fatto, diciamo, lavorare giovani, provenienti da tutte le parti del mondo, di diversa cultura, di diversa religione, giovani che si sono impegnati sempre, e questo succede ormai da 12 anni, giovani che in qualche maniera lavorano per un progetto artistico proprio o di gruppo di trasformazione sociale responsabile. Quindi cercare di fare proseliti nel rapporto arte e società, arte e responsabilità. Nasce nel 2003 questo progetto del Terzo Paradiso. Il Terzo Paradiso vuole essere un simbolo che raccoglie tutto questo e diventa come una stella polare da proporre alla società. Il Terzo Paradiso è fatto di tre cerchi. Nasce dal simbolo matematico dell'infinito, che normalmente conosciamo, che è fatto di due cerchi. I due cerchi. Io ho aggiunto un terzo cerchio. Quali sono i tre paradisi? Il primo è il paradiso in cui gli esseri umani erano totalmente integrati nella natura, quello primordiale. Il secondo paradiso è quello in cui l'essere umano comincia a staccarsi dalla natura e produce sempre più, diciamo così, linguaggi umani, linguaggi che portano pian piano dall'arte alle religioni, dalle religioni ai sistemi sociali, dai sistemi sociali alla scienza di oggi. Ci troviamo oggi, secondo me, a un punto, diciamo, molto, molto, molto avanzato, direi quasi culminante, di questo secondo paradiso, di questa parabola del secondo paradiso. A questo punto noi ci troviamo a doverci confrontare con quello che noi abbiamo costruito e quello che andremo a costruire secondo il concetto di questo secondo paradiso. Ma io ritengo che sia necessario a questo punto mettere insieme, a accordare il primo e il secondo paradiso, far sì che la tecnologia, la scienza, o meglio ancora la scienza e la tecnologia, possano in qualche maniera ritrovare un contatto reale e utile con la natura. Dunque, il circolo, il cerchio centrale rappresenta il ventre gravido di questo nuovo e terzo paradiso. Il luogo dove la natura e la tecnologia devono accordarsi. Io ho sentito prima delle bellissime presentazioni e credo che sia il caso di dire che questo terzo paradiso possa diventare un simbolo, diciamo, di tutto quello che stiamo dicendo. I grossi problemi e la necessità delle grandi soluzioni. Le grandi soluzioni avvengono attraverso la combinazione di un progresso tecnologico capace di far sopravvivere la natura. Ecco, natura non può più, non possiamo più tornare indietro, non possiamo più tornare alla clava, ma dobbiamo utilizzare la tecnologia per andare avanti senza distruggerci, senza arrivare a quel punto finale che potrebbe accadere. Dunque, adesso io ho proclamato una giornata festiva, il 21 dicembre del 2012, che era stato un po' concepito come la fine del mondo, così in maniera popolaresca. Ecco, vorrei che questo fosse il giorno della rinascita, Rebirth Day, il giorno universale della rinascita. Ecco, questo è quanto io vado proponendo, usando internet, usando i vari media, i vari mezzi, per far sì che a un certo momento tutti quanti ci troviamo nella condizione di impegnarci con una grande festa in questo passaggio evolutivo. Dunque, in questo senso, la simbolicità dell'arte diventa elemento comune, elemento di diffusione di un'idea che dovrebbe coinvolgere tutti.